No ai tagli alla sanità pubblica e ferma contrarietà agli interventi sulle pensioni previsti dalla manovra finanziaria. Anche gli infermieri della ASL di Teramo, riuniti sotto le insegne del nursing, hanno aderito allo sciopero nazionale, organizzando un presidio all'ingresso dell'ospedale Mazzini. Purtroppo ci saremmo aspettati dalla manovra finanziaria un atteggiamento diverso, un atteggiamento che avrebbe dovuto valorizzare quella che è la professionalità che è stata poi espressa durante il periodo pandemico. Siamo stati chiamati eroi, siamo stati applauditi da tutti per quello che abbiamo fatto, ma nel momento in cui il riconoscimento deve essere concreto ci sentiamo dimenticati. Non sono state investite risorse sufficienti per poter valorizzare la nostra professione e neanche per attrarre i giovani verso la professione sanitaria, che in questo momento sta vivendo un momento di crisi importantissimo, non solo a Teramo ma in tutta Italia. mancano tantissimi infermieri, solo per dire alcuni numeri, qui a Teramo mancheranno almeno 150 infermieri e 300 os per poter in qualche modo soddisfare le esigenze istituzionali della provincia. Non ci convince il ricalcolo dei contributi pensionistici, che vede penalizzati tutti i contribuenti che hanno versato dei contributi prima del 1996. Con questa nuova formula di ricalcolo ci sono delle penalizzazioni eccessive, addirittura fino ad arrivare a centinaia di euro al mese per gli sfortunati che dovranno andare in pensione. Lo sciopero del personale infermieristico ha comportato il blocco delle sale operatorie, garantiti solo gli interventi di emergenza, e il rallentamento dei laboratori e delle attività ambulatoriali, garantita tramite precettazione e l'assistenza ai pazienti ricoverati nei reparti.